Ciao amici di All4Shooters, CZ Alivua 2024. Ci sono alcune novità, soprattutto nel piccolo calibro, abbiamo un paio di carabine in calibro 22 che vogliamo farvi vedere. La prima, abbiamo già visto qualche cosa, è la prima carabina mai costruita da CZ con la canna rivestita in carbonio, la CZ 457 Carbon. È una carabina che ovviamente ha poco appeal per gli italiani perché nasce espressamente per la caccia con il calibro 22 Long Rifle ma che può essere utilizzata ad esempio per il tiro. È leggerissima, molto precisa, la canna tra l'altro è realizzata in maniera assolutamente magistrale e rappresenta di fatto un ottimo esempio di carabina ultraleggera ma con delle prestazioni molto elevate per il calibro 22. Quindi in realtà la parte più importante e interessante per noi tiratori italiani è rappresentata dalla CZ 457 Range. Ora, questa carabina può essere leggermente familiare perché in realtà l'impostazione della calciatura in legno laminato è quella della CZ 600 e quindi di fatto rappresenta un eccellente prodotto per esempio per fare un trainer con i calibri maggiori. La CZ 600 usa una calciatura simile o meglio praticamente la stessa però è un calibro a fuoco centrale quindi come minimo ideale per il tiro a lunghe distanze. Cosa che si può fare anche con questa carabina grazie alla canna bull barrel e a parte il calibro è possibile fare del tiro cream fire a lunghissima distanza. La calciatura è interessante, ha il poggia guancia regolabile, vari punti di attacco per la cinghia in vari punti in maniera per avere per esempio il trasporto con la cinghia allo stesso tempo per il bipiede. Il sistema di percussione ha un'azione con un angolo di 60 che permette quindi una velocissima lavorazione dell'otturatore. Il sistema di percussione è leggerissimo in maniera da avere un tempo di scatto ridottissimo che permette di eliminare alcuni errori dovuti al fatto che eventualmente quando si va a tirare il grilletto ci possa essere un tempo di scatto troppo lungo e quindi eventualmente falsare un tiro che altrimenti sarebbe perfetto. Anche lo scatto è stato ritoccato e quindi è maggiormente sensibile con un collasso estremamente ridotto. Alla fine si tratta di una carabina che ha delle caratteristiche veramente interessanti tra cui anche un sistema di sgancio apposito per poter smontare l'otturatore dall'azione e come le armi di tipo centerfire della stessa famiglia. Insomma CZ ci permette di avere un'arma trainer a tutti gli effetti per il tiro a lunga distanza in un pacchetto in calibro 22. Continuate a seguire all4shooters.com, qualsiasi commento postatelo qui sotto, non dimenticate di sottoscrivervi al canale.